Rimini Turismo a gonfie vele, quest'anno più stranieri del 2019, un'estate ancora con tanti eventi. Dopo aver anticipato i contenuti del piano strategico 2022-2027 approvato dal CDA, oggi i vertici di Italian Exhibition Group hanno illustrato strategie e obiettivi futuri. Notte di rapine tra Rimini e Riccione, quattro gli arresti dei carabinieri, paura per le vittime, picchiate e minacciate con un coltello. Coronavirus, i contagi che sembravano aver rallentato, oggi tornano a salire, decisa aumento dei ricoveri nell'ultima settimana. Buonasera e bentrovate all'edizione serale di Icaro Tg, bilancio turistico di mezz'estate per Rimini. Questa mattina sindaco ed operatori del settore alberghiero hanno stilato una prima fotografia della stagione 2022 e i dati raccontano un territorio che sembra essersi lasciato alle spalle gli anni difficili. Il servizio. Una prima metà di estate da incorniciare per il turismo riminese. I numeri emersi dalle banche dati degli alberghi, elaborati dalla piattaforma HBenchmark, mostrano tassi di riempimento molto elevati da Pasqua fino ad oggi, con picchi tra l'80 e il 95% in corrispondenza dei grandi eventi. Alpini, wellness e notte rosa in testa. Molto buone le previsioni su agosto e settembre. Ad oggi per la settimana di ferragosto sono già prenotati il 75% degli alberghi che per gli addetti ai lavori significa andare in breve verso il tutto esaurito e anche a settembre le prenotazioni superano in media del 14% quelle dello scorso anno. L'occupazione giornaliera nel mese di giugno è stata del 73,4%, percentuale che erano anni, che non si raggiungeva e che fa osare dire agli albergatori che potrebbe essere stato il miglior giugno di sempre. Buone notizie anche sul versante stranieri. Sono il 30% del totale, erano il 27% nel 2019. Il 10% sono tedeschi, seguiti da svizzeri, austriaci, belgi. Un 14,4% proviene da altre nazioni. C'è inoltre un alto tasso di fidelizzazione, circa il 60%. Anche i prezzi, aumentati in media dell'8-10% a causa dei diversi rincari, non hanno influito sulle scelte della clientela perché Rimini resta comunque competitiva. Dati molto confortanti, anche se non dimentichiamoci che quest'anno contavamo tutto sul turismo italiano e l'alto numero di fidelizzazione per noi era molto importante. Adesso ci siamo trovati una richiesta enorme da parte degli stranieri ed erano le politiche che anche portiamo avanti a livello regionale, l'internazionalizzazione. Per noi lo straniero ha una buona capacità di spesa e un numero di giorni sul territorio molto più alto. Sicuramente i dati che emergono sono molto confortanti. È vero che alla vigilia della stagione turistica c'erano tanti timori, in primis per il comune di Rimini, dove il turismo estero ha da sempre rappresentato una componente molto consistente dei nostri flussi turistici. Invece il dato, per certi versi quasi sorprendente che emerge, è che proprio il segmento del turismo estero è persino in crescita rispetto all'anno pre-pandemia, quindi 2019 è il primo anno di riferimento. Questo è un dato molto molto importante. Quando si parla di resilienza, credo che in questo caso per il turismo riminese sia proprio calzante questo termine, la stagione sta andando bene. E soprattutto il dato futuro, che è quello che viene preso dalle prenotazioni confermate sui gestionali dagli alberghi, che ci danno dei dati molto confortanti. Siamo a un 13,83% meglio posizionati rispetto alla stessa data dell'anno scorso. Se l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo luglio, un ottimo agosto, è facile pensare che quest'anno andremo a migliorare quel dato. Dopo aver anticipato ieri i contenuti del piano strategico 2022-2027, approvato dal CDA, oggi i vertici di Italian Exhibition Group hanno incontrato la stampa. Si è parlato di obiettivi e strategie future, di difficoltà come risultati al momento deludenti del collocamento in borsa, gli ampliamenti e dell'ormai eterno stallo del progetto di integrazione con Bologna. Un piano industriale che prevede un volume d'affari di 267 milioni e un margine operativo lordo di 69, un aumento di ricavi del 49% sul 2019, 135 milioni di investimenti, nuove acquisizioni e nuovi eventi. Il piano strategico 2022-27 di Italian Exhibition Group non nasconde importanti ambizioni. È un programma che noi riteniamo assolutamente perseguibile, un programma che guarda allo sviluppo internazionale, dove già negli ultimi due anni la nostra società è stata il gruppo fieristico europeo che più si è mosso, ma che non dimentica i territori. Tutta la nostra attività di sviluppo avrà una ripercussione positiva sulle manifestazioni che organizziamo nei quartieri di Rimini e di Vicenza. Ci sarà un appuntamento importante che se è quello della fine del 2023, per quella data noi abbiamo immaginato che si produca un effetto di questa natura, cioè riprendiamo i volumi di fatturato e la redditività che era presente pre-Covid nel 2019. Se questo avviene, vorrà dire che allora le previsioni che abbiamo immaginato per gli anni successivi di lì al 27 saranno previsioni di crescita e di sviluppo molto forte. Previste nuove aree da destinare a parcheggio, sia a est che a ovest, e tra il 2026 e il 27 un ampliamento sul versante ovest, con un padiglione e un padiglioncino di collegamento con 9.000 metri quadri utili per rispondere alle esigenze delle grandi fiere. Non più attuale al momento il progetto del cupolone in grado di ospitare anche eventi e spettacoli. Quel progetto è semplicemente rimandato, nel senso che ad est rimane intatta la possibilità morfologica di realizzare quell'oggetto, ma nell'immediato periodo che abbiamo davanti noi di carattere fieristico, noi abbiamo bisogno di corrispondere a quelle esigenze degli eventi fieristici. Sulla fusione con Bologna, eterna e incompiuta, Cagnoni ribadisce la più convincente ma anche la più complicata delle operazioni possibili, invitando i bolognesi a essere più espliciti sulle loro posizioni, mentre quella di Rimini è ampiamente nota. Ferma disponibilità a discutere, ma siamo anche custodi, depositari dei nostri valori, li conosciamo bene e quindi se conviene l'operazione dal punto di vista industriale si fa e probabilmente potrebbe convenire. Se non ne siamo capaci vuol dire che siamo diventati un po' incompetenti, la colpa non può essere della fiera di Francoforte. Se non ce la facciamo vuol dire che noi portiamo la responsabilità, però il progetto è bello. Ora la cronaca notte di rapine tra Rimini e Riccione, dove i carabinieri hanno avuto il loro bel da fare. Sul lungomare Tintoria, Marina Centro, un turista diciassettenne di Varese è stato preso a pugne ginocchiate da quattro nordafricani e rapinato della collana d'oro che portava il collo. Due gli arrestati, un marocchino di 44 anni e una tunisina di 31. Ancora in fuga i due complici, a Riccione invece un turista di Perugia e uno svizzero, sono stati minacciati con un coltello mentre facevano ritorno in hotel da una serata in discoteca. Sottratti soldi e cellulari. Lo svizzero è stato persino costretto a prelevare dal bancomat 500 euro e a consegnarli ai due rapinatori, poi rintracciati dai carabinieri e arrestati in piazzale Roma all'alba. Si tratta di un sedicenne di Milano e di un diciannovenne senegalese, recuperata buona parte della refurtiva. Ora la cronaca giudiziaria. Mentre l'assassino di Cristina Peroni comincia a ricordare cosa è avvenuto nell'appartamento di via Rastelli, le due famiglie si contendono l'affidamento del figlio della coppia. A breve potrebbero trovarsi a confronto il servizio. Presto si troveranno faccia a faccia la sorella di Simone Benedetto Vultaggio, il 47enne riminese che lo scorso 25 giugno ha ucciso la compagna Cristina Peroni con 50 coltellate e la madre della vittima. Entrambe infatti hanno chiesto l'affidamento del figlio della coppia di appena sei mesi e gli assistenti sociali valuteranno di persona, mettendoli a confronto nella struttura protetta che si sta prendendo cura del piccolo, chi delle due sia più idone a crescerlo. Finora sia la sorella di Vultaggio che la madre di Cristina hanno potuto vedere il piccolo solo attraverso videocollegamenti organizzati dai servizi sociali. Intanto Vultaggio resta rinchiuso nel carcere riminese dei Casetti, dove si sta sforzando di ricordare gli attimi dell'efferato delitto. Finora ha avuto solo qualche flash, ma i ricordi sono ancora piuttosto annebbiati. Da pochi giorni poi ha iniziato anche un percorso con uno psicologo, in attesa di essere sottoposta a perizia psichiatrica di parte. Il suo difensore infatti, l'avvocato Alessandro Buzzoni, vuole capire se il suo assistito al momento del delitto era pienamente in grado di intendere volere. Il legale infine aspetta di conoscere i risultati degli accertamenti tecnici effettuati sulla scena del crimine della scientifica. Ora il coronavirus perché resta complessa la situazione del contagio. Dopo i primi parziali segnali di contrazione, i numeri tornano a salire. Oggi è alto il numero dei decessi, relativi però a diverse giornate. Intanto il report settimanale dell'Ausl Romagna registra nel giro di una settimana un deciso aumento dei ricoveri. Tornano a salire i contagi. In provincia di Rimini sono 766, ieri 588. In regione sono 7.503, oltre 2.000 in più di ieri. Su un totale di 24.453 tamponi mancano per problemi informatici i dati di Piacenza. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è del 30,7%, ieri il 17,9%. In Romagna Rimini torna in testa davanti a Ravenna che ha 737 casi. In regione i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 43, 3 in meno rispetto a ieri. Rimini resta a 7. Ancora in aumento invece i ricoveri negli altri reparti Covid, 1714 rispetto a ieri, 35 in più. E sono purtroppo 27 i decessi comunicati oggi in Emilia-Romagna, relativi però anche ai giorni scorsi. 5 riguardano la provincia di Rimini. Sono quattro donne di 81, 87, 88 e 90 anni e un uomo di 93. A Rimini sono stati registrati anche i decessi di due persone residenti fuori regione di 86 e 88 anni. Le nuove guarigioni sono 5.315. Si ferma il calo dei casi attivi che a oggi in Emilia-Romagna sono 84.116 rispetto ieri, 2.161 in più. Il report settimanale dell'Ausle-Romagna ha registrato, dopo settimane di crescita, un primo leggero calo del contagio. Tra l'11 e il 17 luglio ci sono state 14.996 positività su 38.259 tamponi. Si tratta di 191 casi in meno. In provincia di Rimini i nuovi casi settimanali sono stati 4.350, 35 in meno della settimana precedente e i casi attivi sono scesi da 5.342 a 5.120. Ma il dato più eclatante è l'aumento dei ricoveri. In totale risultavano ricoverati 308 pazienti rispetto ai 259 della settimana precedente con un raddoppio delle terapie intensive da 7 a 14. Voltiamo decisamente pagina parlando di eventi. Sono un'ottantina gli artisti che si esibiranno fino a fine settembre nell'ambito di Rimini Sound Estate in 35 concerti nella maggior parte ad ingresso gratuito. Si parte venerdì con la tappa riminese del Coca-Cola Live. Vediamo. Giussi Ferreri, la rappresentante di lista, Ermal Meta, Francesco Gabbani, ma anche Albano, Edoardo Bennato, Salmo, Sfere Basta, Peggy Gu, Noah, Paolo Belli e tanti altri. Sono tanta gli artisti che fino a settembre si esibiranno a Rimini. 35 gli appuntamenti in programma tra Piazzale Fellini, il Centro Storico e la Spiaggia. Eventi che nella prima parte dell'estate hanno mostrato di essere traino importante per il turismo. Si parte venerdì con il Coca-Cola Live alla Rimini Beach Arena con ingresso libero. Albano e Bennato arriveranno il primo e il 2 agosto nell'ambito degli appuntamenti della terrazza della Dolce Vita. Dopo la chiacchierata con Simone Avventura nel Giardino del Grand Hotel si esibiranno gratuitamente in Piazzale Fellini. I concerti estivi avranno poi tante declinazioni per rispondere ai diversi gusti musicali. Tra le proposte più suggestive lo spettacolo di luci e suoni ispirati a Peter Pan proiettati sui muri di Piazza Malatesta tutti i venerdì e i sabati dal 29 luglio al 13 agosto. In tempo reale gli eventi saranno visibili nell'app Rimini Experience realizzata da Visit Rimini che propone anche diverse esperienze gradite per lo più agli stranieri tanto che è già possibile stilare il podio di quelle preferite. Innanzitutto la cosa che piace di più quest'anno è proprio l'uscita in barca di ogni tipo. La barca guidata dall'ospite oppure ci si fa trasportare oppure c'è il catamarano, ci sono gli aperitivi in barca. Insomma tutto il mondo mare veramente piace tantissimo soprattutto agli stranieri devo dire perché sono loro quelli che apprezzano di più queste esperienze un po' più particolari. Poi abbiamo diciamo sempre sul podio anche le degustazioni, in particolare le degustazioni di vini locali. Infine abbiamo anche la nostra visita guidata il mercoledì sera in occasione della shopping night. È una visita guidata alla città, si chiama Scopri le meraviglie di Rimini che è anche in inglese e in tedesco e che viene veramente gettonata perché la curiosità per anche la nostra storia, la nostra cultura è veramente al top anche per gli stranieri. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma icaroplay.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro compreso il Tg. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata.